Buongiorno. Nel contributo di quest'oggi parleremo di un breve saggio scritto da Marina Shveteva. Questo saggio fu scritto nel 1926, fu pubblicato a Bruxelles da una rivista letteraria russa, in realtà, che ha sede proprio nella capitale belga, e si intitola Un poeta a proposito della critica. Questo saggio poi è stato selezionato e raccolto all'interno di un libro che poi è stato pubblicato in seguito con il titolo appunto Il poeta e il tempo. Parlando velocemente della Shveteva, ovviamente lei è stata, come sappiamo, una delle grandi poetesse russe vissute a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Un periodo storico di cui abbiamo già tante volte parlato, che era un grande periodo non soltanto il fermento culturale che viveva tutta l'Europa sul finire del XIX secolo, abbiamo parlato tanto dell'Austria, della Francia, anche dell'Italia in un certo senso, ma anche la Russia, che in quel periodo storico viveva soprattutto attraverso due grandi scuole. Da una parte abbiamo infatti i poeti simbolisti, che sono ovviamente maggiormente ricordati, ovviamente troviamo Mandelstam, troviamo Alexandre Bloch, troviamo Anna Akhmatova, stata forse quella la più grande poetessa russa del Novecento, troviamo ovviamente la Marina Shveteva, troveremo poi in seguito anche Josef Brodsky, per quanto lui in realtà era molto più giovane dei poeti che abbiamo citato adesso, troviamo Pasternak ovviamente, e da una parte c'è anche la grande scuola poi delle avanguardie, anche russe del fruturismo, da una parte abbiamo Majakoski ovviamente, che forse è il più grande e anche il più celebre. Infatti l'Arshveteva si ritrova proprio a frequentare anche i circoli letterari russi di quel periodo, assisterà chiaramente agli episodi, diciamo così, della rivoluzione d'ottobre, della rivoluzione del XVII, chiaramente poi dovrà lasciare anche la Russia perché negli anni venti il suo paese durante il regime stalinista non verrà vista chiaramente di buon occhio, anche a causa ovviamente di molti dei suoi testi, infatti nel 22 dovrà, partirà praticamente andrà in esilio come esule prima in Bohemia e poi successivamente a Parigi. Aspeteva, come ho detto, se inizialmente infatti con Majakoski è anche interessante questo rapporto che avevano i due, soprattutto perché erano della stessa generazione, come ho detto, poi Majakoski si renderà conto ovviamente di che cosa sarebbe diventato il comunismo e soprattutto lo stalinismo. Interessante anche vedere tra l'altro come tutti i poeti poi di quella generazione che verranno tutti messi a tacere o uccisi in alcuni casi come Mandelstam, alcuni moriranno poi successivamente dopo la rivoluzione come nel caso di Bloch o altri appunto dovranno partire con i siliati, nel caso della Akhmatova che pur sarà costretta, praticamente verrà messa sotto silenzio non potendo più pubblicare le sue opere anche perché aveva il figlio in prigione, il marito era stato ucciso da... Basternak stesso dovrà poi emigrare in seguito poi in Europa, come sappiamo, ma al di là di questo, perché questo saggio del 26 è molto importante? Uno dei saggi più belli, io direi, anche sulla letteratura che andrebbe studiato, letto, riletto, anche perché è un tema proprio... qui la Cvetepa ci sta parlando di quello che dovrebbe essere anche il ruolo del poeta, ovviamente, ma più che del ruolo del poeta è il ruolo del critico. Che sappiamo benissimo come a partire dal Novecento si è cominciata a delineare una nuova figura di riferimento nel panorama culturale che è quella del critico. Oggi ovviamente anche questa è una figura ormai quasi completamente scomparsa, perché ormai sappiamo che critici... scrive chiunque, quindi chi è che può criticare o no, cioè si legge tutto il contrario di tutto. Però al di là di questo sappiamo che nel Novecento i critici, ma anche per buona parte del XIX secolo, il critico esercitava una grande influenza, non soltanto culturale ovviamente, ma anche poteva determinare in qualche modo la sua opinione, diciamo così, la sua idea su un autore, poteva benissimo stroncarlo e quindi in qualche modo anche troncare, diciamo così, la carriera letteraria di quel poeta, oppure anche esaltarlo anche in maniera esagerata, spropositata, quindi spesso facendo credere, spacciando poi per genialità poi delle personalità estremamente mediocre o comunque infime, il caso di tanti autori che poi se non pensiamo anche che cosa è stato, non è un caso che nel Novecento verrà istituito anche, vengono istituiti i premi letterali che non esistevano nei secoli precedenti, premi come i concorsi letterari o anche il premio Nobel per la letteratura, dove indubbiamente sono anche premi alcuni molto prestigiosi, sono anche molti indicativi, però che secondo il mio modesto avviso non significano nulla, cioè il più delle volte, anzi basterebbe vedere come autori come Kafka, come Joyce, come Proust, come Ungaretti anche in Italia, Rilke che era stato tra l'altro anche un altro poeta che la cittava spesso, chiaramente i due si erano anche conosciuti, non vinceranno mai il premio Nobel, eppure stiamo parlando di alcuni tra i più grandi, le più, Pessoa, insomma, non è un caso che peraltro soprattutto agli inizi delle prime premiazioni del premio Nobel riguarderanno soprattutto tra l'altro scrittori svedesi, scrittori scandinavi, perché come sappiamo il premio Nobel è stato istituito in Svezia, quindi venivano premiati soprattutto scrittori, autori di quell'area geografica dell'Europa. Ma chiusa questa parentesi, perché questo testo è così importante? Perché la cittadeva, come ho detto, in questo tra l'altro saggio che verrà pubblicato e che scoppieranno delle polemiche dappertutto dopo la pubblicazione di questo saggio, perché la cittadeva in questo libro ci spiega, come ho detto, alcuni dei requisiti essenziali di come si dovrebbe anche giudicare in qualche modo anche un testo o un'opera letteraria, ma io direi anche un'opera d'arte. Infatti lei qui scrive proprio, diciamo così, verso quei critici, anche che si sono affermati poi nel nostro tempo, che tendono anche a giudicare un'opera letteraria senza poi averne le reali capacità di capire di che cosa stanno parlando. Infatti qua lei scrive Per avere un parere su una cosa bisogna viverci in quella cosa e amarla. Giudicare della qualità, dell'essenza di tutto ciò che non è l'aspetto visibile di una cosa, questo può farlo solo chi vive e lavora in quel campo specifico. Infatti è lo stesso signore esattamente lo stesso con l'arte. Eccovi una mia poesia. Può piacervi o no, potete capirla o no, può essere bella per voi o no, ma se sia una poesia buona o meno, può dirlo solo l'esperto, l'amante e il maestro. Giudicando un mondo in cui non vivete, commettete semplicemente un abuso di potere. La persona di cultura è una persona che ha diversi interessi, può avere diverse conoscenze, ma appunto non si permetterebbe mai poi di esprimere dei giudizi perentori su una determinata arte. Io ad esempio posso amare la musica, posso esprimere anche dei pareri sulla musica, perché appunto magari ho ascoltato molti dischi o perché magari appunto amo, ho una grande passione verso quest'arte, ma non me la sentirei mai poi di esprimere dei giudizi così definiti, così netti anche su degli aspetti tecnici che chiaramente non sono in grado neanche di giudicare. Non posso dire se un pianista ha suonato bene o male, perché non sono un pianista, non so neanche leggere lo spartito. Posso dire se a mio gusto quell'esecuzione mi è piaciuto o meno. C'è una grande differenza anche lì. In questo caso si tratta di un'opinione, nell'altro caso si tratta di un'idea. Oggi infatti, dice giustamente la Cveteva, si fa esattamente questo anche nel campo della letteratura. Cioè se la letteratura, come abbiamo sempre detto, è stata sempre materia per letterati, oppure appunto quelle personalità colte che amavano quindi, che capivano quello che stavano leggendo e che sanno esattamente come vanno letti i libri. Infatti anche è magnifica la nostra epoca perché spesso magari accusiamo un autore che non riusciamo a capire, perché il libro è scritto male, perché non si capisce, ma l'atto, c'è differenza anche tra scrivere male o essere complesso. È chiaro che se io mi metto a leggere Archimede e non ho un briciolo di nozioni, di matematico, di geometria, non ci capirò niente, ma è evidente che non posso dire che è scritto male. Non posso dire che è scritto male Eichel, perché non ho mai studiato la filosofia. Cioè, ma anche questo atto così, come dire, anche di umiltà, che giustamente la Cveteva sottolinea, ormai è completamente scomparso, perché adesso, nell'epoca di massa, si crede che tutto debba essere compreso in maniera istantanea. Ma l'arte, come sappiamo benissimo, un conto è guardare un quadro e quindi capirlo, è anche un quadro, chiaramente quando si analizza un'opera d'arte, una pittura, dobbiamo darci attenzione, perché se guardiamo tre secondi è anche un atto di maleducazione nei riguardi del pittore che magari lo ha dipinto e ci ha messo tre anni per farlo, magari cinque mesi o quello che è. Ma nel campo di un'opera letteraria si richiede non soltanto concentrazione, che è la base della cultura, come diceva anche Simon Veil, ma anche una certa, per immaginazione, infatti giustamente qui la Cveteva dice un bravo lettore è anche una persona non soltanto intelligente, ma che ha anche immaginazione e fantasia. Senza immaginazione non riusciamo a leggere nulla. Come si può leggere un romanzo, anche un Tolstoi, un qualunque grande classico, se non riusciamo neanche a immaginarci quello che stiamo leggendo? È chiaro che quindi anche il processo, infatti, che dice la Cveteva, che era stata spesso anche accusata la sua poesia di essere troppo complicata, la poesia simbolica, sappiamo, è molto raffinata, anche piena di figure retoriche, piena di simbolismi, appunto. La poesia è anche difficile, e anche quella poesia, come ho fatto l'esempio una volta di Beethoven, che gli ultimi quartetti, le ultime sonate, sono difficili da ascoltare, ma pensiamo anche a Stravinsky, pensiamo a Schirmer, che pensiamo ai grandi compositori del Novecento, che di certo un Prokofiev, non è che uno se li può ascoltare mentre si lava i denti o mentre sta cucinando, bisogna dedicargli una certa attenzione. È un aspetto creativo, quindi la fatica del lettore non è una fatica distruttiva, è una fatica che lo rende più intelligente. Quando alla fine riesci a capire il discorso, è anche stimolante, la lettura non deve essere mai, come dire, rilassante, sennò ci leggiamo la barzelletta, allora andiamo a leggere, ormai abbiamo appunto questa concezione, tipicamente da piccolo borghese, infatti, come dice la Cveteva, oggi il critico non è più un artista. Se in passato era un Goethe, che esprimeva giudizi sui suoi poeti, spesso prendendo anche delle cantonate, perché sappiamo che Goethe ebbe anche delle opinioni molto negative, ad esempio verso Olderlin o verso Hein, che è stato uno dei grandi poeti della Germania, probabilmente infatti dice anche la Cveteva, forse anche la differenza che vi era tra le tappi, Goethe era un uomo, comunque, quando Hein cominciava a scrivere, aveva cominciato a esordire, Goethe aveva quasi 80 anni, Hein ne aveva 30, quindi c'era anche questa differenza, proprio anche anagrafica, anche di generazione, che divideva questi due grandi maestri. però se il giudizio dovrebbe esprimere quindi la persona che non soltanto è esperta, ma anche quello che fa anche egli quel mestiere, infatti la Cveteva qui fa l'esempio, se io vado da un banchiere e non mi metto io a giudicare il suo lavoro, l'impiegato di banca, posso avere un'idea, posso fargli delle domande, posso chiedere perché fa così piuttosto che in quell'altro modo, ma poi mi devo anche affidare a quello lì, alla persona che sta lavorando, al medico, in qualunque campo, perché questo nell'arte e nella cultura non riusciamo più a farlo? Infatti poi questo atteggiamento, che cosa fa credere nel comune stolto lettore? Che appunto chiunque può mettersi a scrivere. Infatti è anche un atteggiamento che oggi ha distrutto la letteratura, come vediamo, dove sorgono mai testi a non finire. Infatti mi diceva giustamente anche un altro tema che qui sottolino, un altro aspetto interessante, il fatto che oggi scrivano tutti è come creare un esercito di musicisti sordi, cioè produrre poeti mediocri e poi la logica che sta nella base anche della logica tipica anche del comunismo in Unione Sovietica, dove si pubblicavano qualsiasi tipo anche di testi, come abbiamo detto tante volte, soltanto perché entrava nel calderone ovviamente dell'ideologia, quindi chiunque bastava scrivere tre versi in croce e venivi tranquillamente pubblicato, bastava dire viva Marx, viva Lenin, viva Stalin, eccetera, quindi eri già pubblicato perché rientravi ovviamente in quella... ma questo significa anche appunto ammazzare il talento, ammazzare quindi l'intelligenza di chi magari ha un talento reale. Questo testo così meraviglioso, scritto, gli vedo con una lucidità, con una precisione, cominciava a sentire sulla sua pelle, poi morirà purtroppo sappia in maniera tragica, suicida, morirà da certe tema, sentirà proprio questo degrado che ormai riguardava la Russia, mentre il suo paese è caduto in mano di quel mostro di Stalin, ma anche quella situazione ormai di quel... infatti lei distingue anche, da una parte vede il lettore massa, anche il lettore plebe, come lo definisce lei, che è anche incapace ormai di esprimere un giudizio che va dietro appunto alle mode, come diciamo sempre, o che è interessato poi da quegli aspetti poi relativi anche dell'autore. Oggi infatti è meraviglioso, parliamo più della vita privata di un artista o di un autore piuttosto che della sua opera. Infatti c'erano di Puskin, quando in Russia parlavano di Puskin, diciasi quello che era morto in duello, cioè non di quello che aveva scritto. E poi appunto questo pubblico massa che va anche a celebrare questi autori senza neanche comprenderli, appunto scimmiottandoli. Oppure da una parte troviamo anche quei critici, infatti lei dice giustamente, che osseguono semplicemente quello che dicono tutti, il coro, diciamo così, e quindi non rischiano mai. Non tentano mai, come dire, la cor di giocare su un cavallo perdente. Oggi è raro che troviamo anche un critico che fa anche quella scommessa di voler tentare anche di esaltare un poeta sconosciuto. Oggi infatti vediamo anche tra i comuni editori, italiani e non, non viene mai pubblicato, diciamo così, un risorgiente dalle grandi case editrici, ovviamente parlando. Da una parte troviamo invece i critici, i critici che invece sono quelli che lei definisce del prontuario, cioè quelli appunto tipica attitudine poi che era emersa in Unione Sovietica che purtroppo oggi ha conquistato anche la nostra, l'Europa, nel senso che lo troviamo ad esempio nelle scuole, cioè che dove si analizza ad esempio la poesia sulle figure retoriche, sull'anafora, sull'anastrofe, sulle giamme monte, appunto su tutte, su quante sillabe sono, su quegli aspetti tecnici che tra l'altro la stessa ci vedeva, diceva che non neanche conosco, cioè io neanche so che cosa sono queste figure, cioè chiaro che le conosceva, però non pensava di certo a questo, a quante sillabe dover mettere, a quante strofe, a quanti metri, sono aspetti ovviamente secondari anche pedantici, accademici, che trasformano la letteratura quasi in una sorta di di officina da laboratorio, che ammazzano anche poi il significato della poesia stessa. Fare questa specie di autopsia, di un cadavere appunto, non di un corpo vivo, tra l'altro anche interessante, un atteggiamento assolutamente stucchevole, proprio perché poi nell'arte, come dice, non esistono delle ricette che sono, che non sono individuali, cioè ogni porreta, ogni artista, esprime sempre una diversa, ha un diverso modo di esprimersi, un diverso modo di scrivere, ha uno stile diverso, ed è anche quello che rende affascinante la letteratura. Applicare invece un unico sistema di lettura, a tutti i libri, diciamo così, come avviene purtroppo nelle scuole, si dice, ma che cosa serve poi, che senso può avere, andare lì a misurare quante siblere sono, quante strofe ci sono, e appunto un'altra volta un sistema per ammazzare ogni tipo di creatività, ma nello stesso tempo la certeva in questo articolo, è anche interessante, ad esempio oggi, come noi cerchiamo quei testi, che abbiano, unicamente che siano scritti magari con uno stile elevato, attraverso quelli che poi giustamente Montale definiva i poeti laureati, cioè noi cerchiamo magari libri che siano scritti bene, che poi significa tutto e niente, anche il cosa si intende scritti bene, se poi non c'è un contenuto, possono neanche essere i più bei versi del mondo, ma un verso è bello se c'è anche un contenuto, infatti lei dice spesso purtroppo il lettore oggi viene ammaestrato da quelli che sono i fuochi d'artificio delle parole, allietare i lettori con fuochi d'artificio non è il fine della creazione artistica in realtà, come lei giustamente giudica anche quelli che scrivono unicamente per il denaro, o scrivono unicamente per la gloria, ecco, la gloria è una delle tante malattie che distruggono completamente l'arte, cioè tutti i grandi assedali di gloria in realtà anelavano solo al potere, lei proprio qui scrive scrivere per il denaro è una bassezza, per la gloria è un eroismo, lei dice io non scrivo non per milioni, non per uno solo, non per me, scrivo per la poesia stessa, è lei che tramite me si scrive, chiaramente come ho detto sono ormai concezioni quasi completamente che non vengono più colte ormai anche dai comuni scrittori odierni che purtroppo tendono a scrivere come sappiamo o per il denaro e quindi alla peggiore delle bassezze o scrivono unicamente per la gloria scrivere per il successo in fondo è proprio l'atteggiamento di colui che sotto sotto in realtà anela al potere anela essere diciamo così superiore agli altri che è già quindi un atteggiamento prettamente anticulturale non si è mai scritto cioè l'autore perché cosa scrive? scrive per la poesia scrive per il bene stesso dell'arte della cultura e della poesia stessa lo scrittore non è altro che uno strumento nelle mani di qualche cosa di più grande e questo infatti è un sentimento come abbiamo detto tante volte che era prettamente connesso e compreso perfetto da tutti i grandi letterati di ogni epoca storica di qualunque anche luogo io direi d'Europa di qualunque cultura anche infatti lei giustamente dice i critici che non hanno le capacità che ho io di scrivere non dovrebbero quindi in qualche modo giudicare il mio lavoro si entra infatti come ho detto da una logica che se una volta giudicava il lavoro del poeta il poeta stesso era un altro poeta quindi magari un poeta più esperto il maestro ecco nella figura del maestro che magari poteva anche sbagliare ovviamente ma di certo aveva più non dico soltanto autorità ma aveva anche maggiore valenza il suo giudizio perché sapeva perfettamente di che cosa si sta parlando io come ho detto poc'anzi posso esprimere dei pareri sul cinema perché magari ho visto tanti film ma non me la sentirei mai di dare dei giudizi tecnici comunque anche perché non sono un tecnico della fotografia non sono un regista non sono un attore non sono neanche uno sceneggiatore quindi posso dire che magari avere dei pareri è un discorso delle opinioni che possono essere magari più valide soltanto perché ho visto di più rispetto ad altri ho letto più libri soltanto lì sta diciamo così un'autorità maggiore infatti giustamente la cedeva dice accetto il parere di chi conosce di chi sa non di chi parla tanto per parlare come purtroppo troviamo oggi anche gente distratta che poi la logica del consumo se ci pensiamo ormai la letteratura è ridotta a essere libro anche qualsiasi strumento anche culturale non più come un'azione del pensiero appunto del lettore che si mette lì a pensare anche insieme all'autore questo ed è anche in questo gioco meraviglioso che avviene tra lo scrittore e l'autore e il lettore stesso anche dove lo stesso lettore in un certo senso si fa autore entra quindi in quella che è la logica e il pensiero anche del libro che sta leggendo ma vogliamo soltanto appunto distarci vogliamo il divertimento vogliamo il passatempo come se ormai infatti l'arte sia diventa la cultura non si fosse altro che appunto quello dei pagliacci del giullare di corte che si mette lì a farci ridere e quando non ci fa più ridere lo possiamo pure cacciare lanciando gli pomodori addosso e questo infatti è un'attitudine che come vediamo poi non soltanto è dannosa per la cultura ma è dannosa anche perché crea come diciamo sempre un'umanità poi distopica perché infatti oggi non possono crearsi più anche quelle scuole di pensiero quelle scuole di grandi letterati che come abbiamo visto sono esistite nella storia pensiamo come abbiamo detto prima alla Russia dei primi del novecento alla Parigi alla Vienna perché ormai il numero ci ha non soltanto sovrastato ma ci ha anche perché manca appunto quella ricettività fondamentale da parte del lettore scrivere tanto solo per scrivere soltanto per dar lustro ai nostri sentimenti per dar lustro alle nostre solitudini o a quello che è senza aver letto non fa altro ovviamente che banalizzare quello che si scrive o a ripetere a volte a pappagallo concetti espressi da altri interessante anche qui quando appunto quando la la cveteva dice che lei accetta anche soprattutto i consigli anche di tutti quelli delle persone sagge degli uomini grandi lei definisce ma non soltanto a quelli appunto che amano la poesia perché infatti sennò sembrerebbe che la poesia è rivolta o comunque la letteratura solo ai letterati è come se fosse un cerchio chiuso assolutamente no è appunto quell'atteggiamento che è rivolta verso le persone che hanno voglia di capire che hanno anche che si mettono diciamo così con la volontà di ascoltare infatti lei diceva ci dava ad esempio io ascolto il consiglio di un rabbino anche o di una persona saggia sapiente anche se magari non ama la poesia se non gli interessa però so che da una persona così c'è sicuramente qualcosa da imparare infatti quando lei dice anche se io scrivo una poesia sul mare vado ad ascoltare è un marinaio mi dà dei consigli io ascolto quello che mi dice quel marinaio perché sicuramente ne sa più di me lei infatti poi paragona spesso anche questo lavoro del poeta come il lavoro anche del calzolaio chiaramente con la differenza che se diciamo così il lavoro di un calzolaio qualunque calzolaio può rendersi conto se una scarpa è fatta male o meno nel caso della poesia o nel caso di un'opera letteraria diciamo il critico infatti bravo deve avere anche quella lungimiranza deve avere quasi il dono della preveggenza come avevamo detto altre volte cioè deve capire se quel testo potrà resistere al tempo perché le grandi opere letterarie sono tali quando a distanza di 50 60 70 80 anni una volta riprese in mano possono avere diciamo sono sempre leggibili sono sempre attuali in qualche modo mantengono quella freschezza ecco perché questo che distingue come diciamo sempre un grande autore da un semplice scribacchino da un giornalista infatti giustamente la sfedeva dice scrivere un testo che ha la durata di una settimana o di un giorno è opera del giornalista è anche giusto che sia così un articolo dura una giornata perché deve dare delle notizie inerenti a quel momento inerenti a quello che è successo quel giorno non deve pensare a raggiungere diciamo così una sfera più alta ma nel campo dell'arte della cultura che invece come sappiamo esulano dalla sfera materiale mentre appunto l'arte del giornalista è proprio quello di parlare del quotidiano del concreto anche oggi infatti troviamo spesso anche come diceva la sfedeva per la prima volta articoli si è passati infatti anche nell'arte del giornalista dall'articolo al saggio alla recensione o addirittura alla semplice stroncatura gratuita senza neanche addirittura neanche la citazione infatti se una volta anche nel saggio per anche rafforzare diciamo così una tesi si citava letteralmente anche il famoso virgolettato le parole di un determinato autore che stiamo prendendo come sostegno alla nostra tesi oggi è scopparso anche questo oggi troviamo infatti gli slogan che vanno a dominarci anche per se riprende qualunque giornale troviamo lo slogan in prima pagina il titolo in alto il titolo in grassetto che ha ovviamente la valenza di accatturare anche la stoltezza della plebaglia come la chiama la sfedeva cioè di quelle delle persone che non pensano che non sanno pensare e che facendo in questo modo chiaramente non li si invita più a pensare se infatti anche il libro ha sempre avuto anche quella valenza diciamo così di scuoterci di toglierci quella ragnatella che abbiamo nel cervello di rimuoverla quindi per invitare il cervello quindi anche a pensare al ragionamento alla cultura è evidente che con il proliferare anche di questi libri spazzatura che troviamo dappertutto ormai anche la persona ignorante non avrà mai la possibilità di dividere una persona colta non gli verrà mai data questa possibilità vedendo ormai in che stato è ridotta la letteratura in che stato sono ridotti i libri e questo ovviamente è un tema fondamentale anche nella nostra epoca perché la Cfeteva in questo saggio ci dà un'altra volta la logimianza del grande autore del grande poeta infatti è un discorso che io spesso ho fatto chi è che dovrebbe insegnare letteratura se non un letterato se non uno scrittore se non il poeta appunto oggi troviamo gente che insegna lì che non sa neanche quello che sta insegnando non significa altro che ripetere così cioè in fondo infatti nei conservatori questo non avviene giustamente nel conservatorio chi insegna pianoforte anche io un pianista non può essere diversamente altrimenti non si insegna nulla chi dovrebbe insegnare filosofia se non il filosofo stesso cioè se non matematica se non un matematico cioè è evidente che se facciamo insegnare agli impiegati a quelli che hanno vinto solo il concorso ecco qual è il risultato che non ci lamentiamo se poi ovviamente i risultati sono questi anche a livello di istruzione di cultura generale perché poi come vediamo infatti il tema anche di questo della morte della cultura è proprio anche attraverso questi grandi saggi che grandissimi letterari grandissimi poeti scrittori dello scorso secolo ci hanno lasciato leggendo questo testo noi possiamo anche mettere ordine nella nostra testa spesso si fa anche un grande chiasso un grande dibattito mi sento spesso dire ma chi è che può giudicare a loro un testo rispetto a un altro leggendo questo libro leggendo appunto questo saggio meraviglioso della Cfeteva ci sono già le risposte ecco perché io rimando sempre alla lettura dei grandi autori delle grandi menti che pensano che ragionano e che ci spiegano in maniera così chiara anche quelli che sono i nostri problemi invece noi facciamo altro che appunto che metterci a dibattere a riempirci il petto quando appunto basterebbe prendere un libro a leggere e capire questa è anche la cultura volontà di capire ed è soprattutto anche l'arte di mettere ordine noi abbiamo delle false idee delle false opinioni leggendo un libro queste cattive diciamo così queste ragnatele possiamo facciamo pulizia come quando si pulisce una casa che è tutta impolverata che è tutta sporca si mette ordine finalmente questa è anche la grande arte della persona anche colta di chi capisce le cose e di chi invece continua a non voler capire o a rimanere diciamo così nella volontà dell'ignoranza perché poi è sempre il solito discorso tra chi preferisce restare nella caverna a guardare le ombre incatenato e chi magari cerca di uscirne fuori e mostrare che esiste un mondo alternativo è sempre lì il discorso culturale cioè tra chi vuole restare incatenato e chi invece preferisce anela ad una libertà a qualche cosa di superiore ecco perché come ho detto con questo vorrei anche concludere questo testo della Cvedeva così meraviglioso vorrei magari concludere anche leggendo quando lei scrive qui cosa c'è di bello nella gloria? il suono della parola oggi invece troviamo gente che scrive solo per la gloria appunto infatti dire giustamente se il lettore è privo di fantasia nessun libro si regge ci vogliono immaginazione e buona volontà con questo infatti vorrei anche concludere questa bellissima questo saggio meraviglioso quando lei giustamente dice che anche l'eleganza che ci dovrebbe essere ormai nell'esprimere un giudizio su qualunque cosa la differenza che c'è tra scrivere un semplice articolo che come abbiamo detto può essere scritto anche da chiunque basta prendersi lì dei libri fanno un riassuntino e l'articolo è pronto non è che ci voglia molto a scrivere una recensione a scrivere ma scrivere appunto poesia scrivere letteratura è ben diverso peccato che oggi è come appunto creare qualcosa di nuovo infatti lei giustamente qui è questo chiaro che era detto tante volte un concetto così evidente che oggi come l'evidenza non è più evidente non è più chiara da nessuna parte infatti come dice giustamente la Cfeteva qualsiasi mediocre ciabattino vi dirà fin dal primo sguardo questo stivale è buono oppure non è buono per farlo gli occorre una particolare sensibilità al critico invece per stabilire subito se l'opera è buona o no una volta per sempre occorrono oltre a tutte le indispensabili conoscenze la sensibilità il fiuto il dono del veggente il materiale di una scarpa la pelle è prevedibile è finito il materiale di un'opera d'arte è imprevedibile è infinito chiaramente non la parola assolvibile solo ove ci sia il dono chi nella critica non ha il dono del veggente è solo un mestierante con diritto al lavoro ma non al giudizio grazie